buona giornata amici da fano tv ben trovati alla rassegna stampa questa mattina abbiamo un ospite un ospite gradito e loretta manocchi che la coordinatrice di fratelli d'italia di fano buongiorno benvenuta fano tv commenteremo insieme i giornali comunque noi iniziamo la nostra trasmissione a partire dall'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia un santo poveretto ne ha passate di tutti i colori e san giuseppe da leonessa visse nel xvi secolo prigioniero dei turchi a costantinopoli fra giuseppe era stato per tre giorni pensate appeso ad una croce per un piede e per una mano ma non era morto per cui il sultano vista tanta resistenza tanta eroicità commutò la sua pena di morte in esilio perpetua fra giuseppe allora venne in italia predicò predicò passò tutte le località dello stivale finché non risiedette nel convento di amatrice dove finì i suoi giorni quindi san giuseppe da leonessa xvi secolo e veniamo alle previsioni del tempo oggi vediamo che il tempo vediamo della grafica eccolo si mantiene stabile è ampiamente solleggiato su tutto il territorio regionale in serata ci sarà un lieve aumento di nubi e un calo del un calo termico farà un pochino più freddo le temperature si aggireranno tra i 4 e i 12 gradi i venti spireranno con una tensione media da ovest nord ovest sulle coste e da ovest sud ovest all'interno e il mare è continuo a essere mosso bene ci ho detto possiamo aprire subito i giornali con il commento di loretta a partire dal corriere adriatico e vediamo che tu ambi due anche il resto del calino non solo il corriere apre con la visita che l'onorevole antonio baldelli ha compiuto ieri all'aeroporto di fano vediamo subito il titolo i vertici enac visitano l'aeroporto una risorsa regionale da valorizzare il deputato di fratelli d'italia antonio baldelli favorisce l'incontro con il sindaco disponibili importanti investimenti è un'occasione da non perdere loretta il nostro aeroporto si è un aeroporto minore però è importante in quanto si trova nel centro italia uno scalo intermedio tra tutti i voli che percorrono i cieli della penisola però insomma rimane sempre al palo perché prima di tutto non siamo riusciti a realizzare la pista in cemento che avrebbe potuto movimentare il traffico aereo e poi questo problema della società fano un fortune che ormai non può ancora arrivare all'appalto alla gara per la concessione stessa è l'indecisione del comune se mantenere la proprietà totale dall'aeroporto oppure cedere tutto allo stato cosa ne pensi mi fermo sull'ultima frase che hai detto l'indecisione del comune questa indecisione è il mio commento purtroppo sul sul punto è abbastanza così un po senza un po pungente perché questa indecisione decidere di non decidere che massimo serie ne ha fatto un balloardo della sua della sua politica effettivamente tiene tiene ferme questioni importanti come quella dell'aeroporto di fano io davvero mi auguro che con anche l'interesse dei nostri deputati in parlamento come l'onorevole baldelli e le spinte anche non da ultimo dei consiglieri che insieme al consiglio punto comunale come anche lucia tarsi per paoli nel tempo hanno pungolato più volte questa amministrazione in particolare sindaco perché davvero risolvesse questa questione e in maniera in maniera importante evidentemente ci sono delle spinte concentriche all'interno di questa maggioranza che conducono a questa appunto indecisione perché magari diverse anime non hanno unitariamente lo stesso interesse io mi auguro che però l'interesse primario sia quella della città e che questa spinta conduca in via risolutiva e definitiva insomma a riappropriarci e soprattutto ecco a valorizzare come giusto che sia l'aeroporto come giustamente detto tu della terza città delle Marche quindi abbastanza strategico per non dire molto strategico. Ma qual è la posizione di Fratelli d'Italia? Il Comune dovrebbe cedere gratuitamente tutta la sua proprietà al demanio dello Stato oppure mantenere questa proprietà e gestire in proprio questa grande infrastruttura importante per la città di Fano ma non solo ma anche per tutto il comprensorio? Qual è la vostra posizione? Certamente però la cessione di questi terreni bisogna mettere sul piatto quello che è ripeto l'importanza per la città perché la cessione da una parte si porta poi a valorizzare e a far sì di utilizzare questo aeroporto è giusto che il Comune lo faccia se poi non è in grado di chiaramente di farsi carico di questa enorme struttura. Ovviamente questo è assodato insomma il Comune non riesce quindi siete favoribili la cessione gratuita dello Stato. C'era in ballo invece uno scambio cioè lo Stato avrebbe potuto cedere la caserma Paolini al Comune di Fano e il Comune di Fano avrebbe ceduto l'aeroporto però lo Stato non ci sta a questa cessione perché dice che in realtà i terreni dell'aeroporto non hanno valore perché sono vincolati e quindi non hanno la possibilità di avere un valore nel bilancio dello Stato mentre la caserma, la caserma sì, la caserma può essere sfruttata e quindi può determinare un'entrata al bilancio e quindi questo è stato bloccato e quindi dovremo chissà cedere tutto gratuitamente con un po' di rammarico dobbiamo dire. Sì sicuramente. Passiamo ora alle altre notizie e vediamo che il mondo della ricettività fanese è in sobbuglio. È in sobbuglio perché? Perché il Comune di Fano intende aumentare la tassa di soggiorno e lo vediamo qui in questo articolo del Corriere Adriatico. Tassa di soggiorno aumento tardivo secondo gli albergatori ora ci danneggia, rinviatelo al 2024. È certo che cambiare le regole in corso mentre il gioco appunto si sta facendo, gioco tra virgolette, crea dei problemi e gli albergatori dicono abbiamo fatto un pacchetto, abbiamo venduto tutto, abbiamo stabilito dei prezzi ed ora quello che c'è in più dovremmo assorbircelo noi. Quando si parla di aumento di tasse, Loretta, c'è qualcuno che ovviamente insorge. pensi che la politica turistica in questo momento venga fatta sui binari giusti oppure ci sono delle deviazioni? Che dici? Allora io credo questo che sicuramente come giustamente detto tu, il momento in cui gli operatori del settore hanno preventivato una serie di iniziative, di pacchetti che tengono conto dei costi, che tengono conto di quelli che sono poi i profitti, vedersi in corsa appunto un aumento e quindi una tassazione sul punto è chiaro che crea disorientamento oltre che crea un danno. Questo io ritengo che vada assolutamente evitato laddove è necessario un confronto preventivo ex ante per consentire tramite le categorie di riferimento che fanno da collante con gli operatori turistici davvero di valutare l'opportunità o meno. Ma credo che anche lì, certo quando si parla di tassazione è che nessuno gioisce, talvolta è necessario ma in ogni caso quello che va fatto è un confronto ripeto preventivo e soprattutto dare anche la possibilità in via preventiva di conoscere quello che sarà la prospettiva futura di attesa. È chiaro che magari gli operatori del settore potranno eventualmente correggere. In questo caso diventa sicuramente un problema, diventa un danno anche economico e quindi insomma dovremmo aiutare le categorie visto quello che è stato il trascorso con il Covid e quindi tutto quello che ha comportato soprattutto per il mondo turistico perché non dimentichiamo che veramente per gli operatori turistici è stata una debacle importante, insomma chiusure eccetera. Quindi forse un'attenzione maggiore questo settore meriterebbe di avere. Non sono tempi facili per il nostro settore ricettivo. Vediamo come intitola il resto del Carlino, lo stesso argomento. Barricate contro la tassa di soggiorno raddoppiata. Monta la protesta della Conf Turismo, non si possono prendere a modello Parma e gli altri centri d'arte perché Fano ha una peculiarità diversa, hanno detto gli albergatori. Vediamo, dato che siamo sullo stesso giornale come il Carlino apre la pagina di Fano con la visita dell'aeroporto, è una pronta a investire nel nostro aeroporto. Ma poi a fondo pagina abbiamo un altro argomento che ci interessa da vicino, ovvero quello della ristrutturazione, della demolizione, della ricostruzione dell'ex Carducci. Ieri visita del senatore Antonio De Poli insieme al che ha incontrato il preside Samuele Giombi e l'insegnante Lucia Tarsi. Ebbene Fratelli d'Italia ha fatto una battaglia per accelerare i tempi per la ricostruzione di questo edificio di cui ancora non si vede un risultato plausibile. Loretta, cosa si può fare? Comunque qui c'è una buona notizia, insomma il preside ha detto che entro la fine di febbraio il contributo dovrebbe essere sbloccato, ora si trova alla Corte dei Conti. Però insomma è una vicenda complessa. È una vicenda complessa, decisamente molto annuosa, che anche questa così si protrae da anni e sicuramente anche in questo caso quello che è la spinta propulsiva sono le persone come il preside, Lucia Tarsi e anche il coinvolgimento di nostri rappresentanti in Parlamento e in Senato che in questo caso come il senatore De Poli ovviamente hanno un'attenzione per questo territorio che non è certamente di poco conto, anzi consentono questa ulteriore spinta necessaria. Sì, sono anni che si porta avanti questa battaglia, direi che veramente è giunta l'ora, anzi l'abbiamo superata di gran lunga per cercare di ottenere insomma quello che per questo edificio è necessario dal punto di vista della sua valorizzazione e ristrutturazione. Mi auguro, ripeto, che visto che le notizie sono delle migliori, si giunca all'epilogo di questa vicenda. E dobbiamo precisare che la visita del senatore De Poli è stata così favorita dall'interessamento di Stefano Pollegioni e il segretario dell'Udc insomma che ha accompagnato il senatore anche nella visita che lui ha compiuto nel carcere di Villa Fastigi, sempre nella giornata di ieri, dove ha cercato appunto di movimentare tutta una situazione per superare il degrado che esiste in quel carcere. Parliamo anche di carnevale, perché non possiamo non parlare di carnevale dato che domani è in programma la prima grande sfilata dei carri del carnevale di Fano. Vediamo quest'articolo a fondopagina del resto del Carlino. Fiori, mostre, gemellaggi, carnevale nel vivo. Bene, ci sono tante iniziative, domani mattina dalle 10 il carnevale dei bambini, dalle ore 15 la grande sfilata dei carri allegorici su Viale Gramsci, getto, la luminaria, confusione, divertimento, tante iniziative per entrare nel vivo in un periodo di moderata trasgressione, dico moderata perché non bisogna mai arrivare agli eccessi. Loretta, tu sei di Fossombrone. Come vedi il carnevale di Fano? Molta gente viene dall'entroterra a partecipare a questa grande manifestazione. Come vedi il carnevale di Fano? È un'iniziativa turistica ormai importante a livello nazionale. È andata calando oppure c'è un crescendo vedi in questi ultimi tempi? Allora, c'è un impegno profuso dalla parte della carnevalesca e quindi da tutto il suo direttivo, a partire dalla presidente Gianmarioli Maria Flora e tutto il direttivo, con una passione incredibile. Il carnevale di Fano davvero è uno dei fiori all'occhiello non solo della città ma di tutta la nazione. È un evento molto importante e peraltro sì che coinvolge tante persone, tante scuole, i bambini, tante iniziative. Io in questi giorni vedo veramente una spinta incredibile e quindi secondo me sta purtroppo anche qui dopo il Covid che ha necessariamente subito un importante stop, una ripresa, una crescita e soprattutto ho notato questa volontà, questa voglia di proporre anche nuove iniziative quindi di massimo coinvolgimento. Lo trovo un evento che deve essere sempre di più considerato e valorizzato e questo vedo che sta avvenendo in maniera veramente bella. Benissimo, benissimo. Quindi diamo delle buone prospettive per il carnevale di Fano. Ed ora parliamo di scogliere. Parliamo di scogliere, siamo in inverno però insomma quello che sta agitando il mondo balneare è un problema annoso, quello della protezione della costa. 1.960.000 euro per le scogliere le ha annunciate ieri l'assessore regionale Stefano Aguzzi a Marotta. La regione in campo per la difesa della costa a Marotta, l'assessore Aguzzi, opere indilazionabili per scongiurare l'erosione costiera. Ebbene il problema che interessa il mondo balneare ha due aspetti. Uno è la direttiva Bolkestein che insomma è lì che lo agita tutti gli operatori da diverso tempo. Quell'altro invece è la difesa della costa. È importante l'attrazione balneare nel nostro turismo perché è sempre la prima, nonostante la cultura, nonostante la romanità, nonostante tutte le bellezze territoriali che abbiamo nel nostro territorio però la gente viene a Fano, viene sulla costa per stare al mare e quindi bisogna tutelare questi operatori. Vero Loretta? Assolutamente sì. L'aspetto, come giustamente hai detto tu, principale del turismo, è una delle principali risorse della nostra città e indubbiamente abbiamo notato con le ultime mareggiate come appunto la costa anche in Sassonia, in prossimità di Ibanicarlo, è stata completamente erosa con dei danni notevoli insomma per l'attività di valiazione. Quindi merita ed è necessario un'importante attenzione. Chiaramente questa attenzione è ben raccolta dagli amministratori regionali che hanno appunto una attenzione rivolta alle coste con con somme diciamo di una certa entità per far sì che questi interventi consentano insomma di mantenere la costa e consentire appunto di svolgere l'attività di magliazione. Chiaro che la questione direttiva Bolkestan non è di poco conto, infatti proprio in questi periodi c'è una certa attenzione anche di approfondimento. Volevo anche chiarire alcuni aspetti con poi il nostro Stato segretario all'Economia e Finanza che peraltro ha la delega al De Magno quindi proprio per capire anche da qui in avanti quali sono gli sviluppi concreti al di là di quello che poi risulta dal carteggio insomma da quelle che sono le direttive quindi in maniera formale ma in maniera pratica come davvero si risolverà questa questione per gli operatori e non solo anche c'è tutta l'area di interesse delle ad esempio delle associazioni non profit, posso pensare non so la Lega Navale piuttosto che altri club che comunque non hanno uno scopo di lucro che però attualmente sembrerebbero per certi aspetti essere investiti anche da anche loro da questa direttiva insomma anche su questo punto è importante approfondire. Sì questo punto scuro ha anche così limitato gli investimenti degli operatori nelle loro concessioni perché dicono cosa posso investire, io ho soldi, costruire nuove strutture che poi queste magari vanno a beneficio di altri concessionari quando magari si faranno le gare quindi questo limita anche la qualificazione delle nostre coste e questo è un problema, è un problema. Passiamo ad Urbino, passiamo ad Urbino e vediamo che 3.000 future matricole in tour nelle facoltà. È un open day che l'Università di Urbino ha organizzato per facilitare i ragazzi nella scelta delle loro facoltà. I ragazzi hanno conosciuto le sedi e la straordinaria unicità della biblioteca a San Girolamo, questo per quanto riguarda a Urbino. Invece a Fossombrone, lo vediamo qua in questo articolo, al via Federico e Fossombrone rassegna per i 600 anni del Duca. Federico non è solo Urbino, Federico un po' è tutto il Montefeltro e coinvolge anche Fossombrone. Comincia oggi la rassegna di eventi Federico a Fossombrone, una serie di appuntamenti organizzati dal Comune per i 600 anni della nascita del Duca da Montefeltro. Il calendario spazia dalla musica all'arte e vede la partecipazione di alto profilo scientifico a livello sia nazionale che internazionale. Fossombrone lo retta come località turistica, a parte che è incastonata in un bellissimo ambiente, ma ha anche una risorsa che forse dovrebbe valorizzare di più, ed è quella dell'antica Forum Semproni, una zona archeologica che non so se è accessibile, non è accessibile, in quali termini lo è, come viene poi ancora fatto oggetto di lavori, perché molti scavi ancora sono da eseguire. Come vedi la situazione dell'attrazione turistica della tua città natale? Ecco, la vedo un po' sottotono e sono, diciamo così, e mi contengo, perché credo che Fossombrone ha spiegato bene te, insomma, ha tante risorse culturali, storiche, artistiche e soprattutto appunto da un punto di vista degli scavi che attirano in realtà turisti, però non hanno quella forma di ricettività tale da consentire la fruizione di, diciamo, di tutte le bellezze della città. E sì, questi scavi, insomma, non si capisce, vanno avanti, non vanno avanti, sono fermi, non sono fermi. Meriterebbe una spinta di un altro tenore, perché effettivamente le marmite dei giganti nel tempo, per esempio sotto un profilo proprio anche sportivo e comunque di ricezione turistica, si sono, grazie però alle associazioni di ragazzi che hanno quella spinta. Invece, per quanto riguarda tutto l'altro apparato turistico, andrebbe potenziato, perché è un vero peccato. E veniamo alla cronaca. Purtroppo dobbiamo riferire di un lutto. Uno scalatore apiobbico cade dalla falesia e muore sul colpo. È accaduto nella zona della balza della penna apiobbico il ritrovamento del corpo da parte di amici e soccorritori solo nella tarda serata dell'altro ieri. Si tratta di Franco Migliorati, 54 anni, di città di Castello, celibere, un appassionato climber, cioè scalatore a mani nude. Purtroppo, questa volta, la presa non ha avuto successo. Ed ora parliamo di un evento di carattere energetico e ambientale che interessa un po' tutto il territorio. Però prendiamo lo spunto da quanto sta accadendo a Sant'Angelo in Vado. Pannelli solari a Sant'Angelo in Vado sono quei campi agrivoltaici che si stanno un po' disseminando in tutto il territorio di cui la regione è contraria. Presentata in regione una mozione di Rossi, Serfilippi e altri contro il progetto di mega impianto a 4 metri di altezza. Pannelli solari a Sant'Angelo in Vado, mai li mettiamo sopra i capannoni, hanno dichiarato appunto i residenti. C'è appunto il consigliere Giacomo Rossi che lo vediamo qui in questa fotografia. Ebbene, questi pannelli dei campi agrivoltaici sono apparsi a meno livello progettuale anche nel nostro territorio, a Carrara, nei pressi di Cartoceto, Loretta. Sono delle necessità del nostro territorio del futuro oppure sono degli attentati alla tutela dell'ambiente? Cosa ne dici? Io sicuramente sono una risorsa da una parte e un attentato per l'ambiente dall'altra. Quindi non mi sento di dire sono l'uno e l'altro, sono entrambe e quindi bisogna assolutamente trovare un giusto compromesso. E il fatto di poterli mettere su degli stabili quindi è una soluzione perché in effetti vedere comunque distese di campi coperti da pannelli, insomma, non devo aggiungere altro. È un deturpamento dell'ambiente, un deturpamento dell'immagine, del paesaggio e poi anche da un punto di vista successivo dello smaltimento una volta che comunque hanno fatto la loro funzione. Quindi bisogna sicuramente contemperare queste due esigenze. Passiamo a qualche notizia di Pesaro. Lo vediamo dal resto del Carlino. A Pesaro stava per arrivare una nave con degli immigrati. In arrivo nave ONG con decine di profughi, poi non è arrivata perché è stata deviata. Ricci intanto però aveva fatto scattare l'allerta, poi il dietro front. L'annuncio del sindaco dopo il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto in prefettura quando ancora non c'erano delle certezze. Poi la rapida evoluzione e il cambio di rotta. Il Ministero ha annullato la Prodo e la nave è andata in quel di Napoli. Ma da noi le porte sono aperte, ha detto Ricci. Farti parlare dell'immigrazione, Loretta, è come invitarti a nozze, voglio dire. Fano, il nostro territorio è stato un po' messo in disparte, non è stato interessato. Adesso Ancona un pochino viene individuata come un porto da Prodo, però il nostro territorio non è stato interessato. Però insomma la questione ci tocca anche da vicino perché l'integrazione degli extracomunitari che sono nel nostro territorio è sempre una cosa che deve essere coltivata in maniera appropriata. Allora, immigrazione, pensi che le amministrazioni comunali facciano abbastanza per così ospitare queste persone che vogliono aspirare a una nuova vita, a un nuovo futuro? No, no perché lo vediamo, sì, tocchi un tasto diciamo importante. Non è abbastanza perché lo viviamo, ad esempio su Fano, proprio anche in questi giorni, sulla questione dell'ex convitto, laddove sono ormai diversi blitz che si sono succeduti in questi giorni, in questo periodo, che comunque vedono l'occupazione da parte sostanzialmente di stranieri, di immigrati, non so in che condizioni, se lavoratori, se regolarmente presenti sul nostro territorio, ma mi viene proprio da dire che effettivamente da un punto di vista delle amministrazioni non hanno quella spinta per capire, per fare da un punto di vista innanzitutto un censimento anche di quelli che sono le persone presenti sul territorio, dall'altro capire in che posizione queste persone si trovino, al fine da una parte di operare certamente l'integrazione con la cittadinanza tutta e dall'altra capire quali sono le esigenze, quali sono le problematiche, se sono sul nostro territorio per delinquere, quindi compiere degli illeciti, piuttosto che sono dei lavoratori che hanno necessità di avere un aiuto anche da un punto di vista abitativo, insomma c'è un'analisi che andrebbe fatta in maniera più puntuale, al fine da una parte di evitare chiaramente situazioni difficili di integrazione e dall'altra anche per evitare che si compiano comunque, ripeto, degli illeciti che incidono sul vivere bene di una città, sul decoro, su tutto un insieme di valori della città stessa, insomma. C'è stata recentemente una conferenza stampa di Fratelli d'Italia, in cui il partito ha dato l'impressione già di sentirsi un po' al governo della città per le prossime elezioni del 2024. Ebbè, il vento è favorevole in questo momento al centrodestra, dobbiamo dirlo, ma se voi foste al governo oggi, per quanto riguarda il Vittorio Colonna, cosa fareste, Loretta? Ci vuole una spina, allora, chiaramente la proprietà è privata, e questo è privata, però nel momento in cui il privato si pone in contrasto con l'ordine pubblico, col decoro, questo ha la priorità, questo lo sappiamo e quindi viene prima di tutto. Ora, io ho letto dalla stampa, perché non ho contezze in maniera diretta, dell'ultimatum che il Comune avrebbe posto nei confronti della proprietà privata, io mi chiedo, quest'ultimatum in che cosa consiste? È un'ordinanza? Che tipo di provvedimento è stato emesso? Quindi, per quello che mi riguarda, le azioni che vanno intraprese sono sempre azioni quando il problema sussiste, persiste e non è in via di risoluzione, forti, cioè in maniera decisiva, cioè il fatto di trovarsi sul luogo e fare dire che è tutto a posto, come può aver fatto l'assessore Cuccherini, siamo giunti all'epilogo di una situazione, l'indomani la stessa è stata smettita, quindi evidentemente l'azione non è risolutiva, quindi talvolta ci sono, ripeto, degli atti da dover adottare in maniera forte per cercare anche di confronto dei privati per porre fine a situazioni che sbattano con tutto. Benissimo, siamo in conclusione, Loretta, voglio soltanto, prima di chiudere la nostra trasmissione, leggere un titolo di sport. La visse per le vie brevi è vietato distrarsi, oggi alle 14 a Montevarchi contro il San Donato, uno scontro veramente decisivo. Per il Fano invece non è uno scherzo, questi punti pesano, anticipo di Carnevale oggi alle 14.30 con il Porto d'Ascoli. E questo per il momento è tutto, Massimo Foghetti e Loretta Manocchi vi salutano, io vi do appuntamento l'undi prossimo alle ore 7. Grazie per l'ascolto, buona domenica e buon Carnevale, a risentirci. Grazie per l'ascolto, buona domenica e buon Carnevale, a risentirci. Grazie per l'ascolto, buona domenica e buona domenica e buona domenica. Grazie.